Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato, oggi Mululoo Christmas numero 18 e che cosa vado a proporvi? Prima su tutto però e prima di cominciare qualsiasi tematica collegata a questo filmato ben specifico, calendario dell'avvento alla mano, come sempre come ogni inizio del Mululoo Christmas andiamo a aprire la casellina, oggi casellina appunto numero 18, dove sta? Eccola qua, casellina numero 18, magari se non me lo do in faccia se non me lo sbatto proprio così sarebbe meglio, apriam e vediamo, wow, cioccolatina a forma di stellina, che carina a forma di stellina, dopo lo mangerò con calma, adesso lo ripongo. Il filmato vi voglio proporre, voglio darvi 5 consigli su 5 titoli di film barra cartoni, sì, eccoli qui davanti a me, voilà, i 5 DVD, 5 titoli a film barra cartoni che voglio proporvi per guardare in questo periodo natalizio, non lo so, amo personalmente parlando, poi non so voi, amo in base al periodo che sto vivendo guardare i film a tema, poi capita anche che magari vedo film a tema natale che è estate, viceversa e così via, spero di non avere il rossetto sui denti, ok no, perché questo qui è veramente tremendo i rossetti scuri, perciò se mi dovesse andare, eventualmente magari non me ne rendo conto del rossetto sui denti, non ci fate caso, scelta peggiore non potevo farla oggi, però vabbè ok. Dunque sia, prima di incominciare e prima di proporvi i miei 5 titoli da guardare, sotto nei commenti scrivetemi anche tutti i vostri film, cartoni, tutto ciò che state guardando, che avete visto, come primi titoli questa serie da 3 film, senti chi parla, fin da subito che sono tutti i film barra cartoni tra gli anni 80, 90 e i primi del 2000, principalmente senti chi parla adesso, cioè il terzo film è a tema natale, ognuno con l'altra storia si ricollega, ci sono simpatici, divertenti, coinvolgenti, ideali per la famiglia, ma anche per vederlo singolarmente, per carità, promossi, in particolar modo il mio preferito è il 3, perché essendo a tema natale, che ve lo dico a fare, sapete che per il natale ci esco fuori, non tanto, ma tantissimo, non li conoscete, super consigliati, all'interno di tutti e tre i film c'è John Travolta, che insieme a Stallone sono i miei attori preferiti hollywoodiani, poi continuiamo con, sto andando random, non è che li ho messi in ordine, un cartone, non possono inserire dei Disney, e ce ne sono ben due, questo e l'altro che verrà dopo, la bella e la bestia, un magico natale, oltretutto questo è il cartone che mi stavate vedendo nel blog che ho girato ieri, che avete visto ieri appunto, se l'avete perso ve lo lascio qui nelle schede informative, ma anche sotto nell'info box, anche lui super super nataloso al massimo livello, bello, divertente, ideale anche per i più piccoli, ma anche per i più grandi, perché i cartoni non sono destinati solamente ai piccoli, ma per queste cose, per queste visioni, secondo me non c'è mai un'età, poi per i Disney sono senza tempo e che ne parliamo a fare. Finiamo con un altro Disney, il Bianco Natale di Topolino è festa in casa Disney, anche questo qui è un classico dei classici, veramente, veramente bello, composto da più storie, e poi la cosa fighissima è che ogni volta che incomincia una storia vanno tipo nella sala da pranzo e vedi tutti i personaggi Disney, insomma se lo conoscete dovreste ricordarlo, se in caso non l'avete mai visto non voglio spoilerarvi più di tanto, è veramente anche lui simpatico, divertente, in alcuni momenti nostalgico, però che allo stesso tempo ti fa capire alcune realtà di fatti, ma chiudo la bocca qui, altrimenti spoilerò troppo a chi non l'ha mai visto. Due cartoni Disney, perdonatemi, ma non potevo non inserirveli in queste proposte. Vacanze di Natale, questo risale agli anni 80, vecchio stampo come piace a me, sapete, allo stesso tempo, non so se ve lo ricordate, non so se ve l'ho mai detto, ma credo di sì, amante anni 80, sono un 80 lover inside, ho sempre detto che non mi ci ritrovo in questa epoca che vivo, se potessi tornare indietro, tornerei a questa epoca senz'altro, gli anni 80 barra gli anni 90 e i primi del 90, sono del 97, veramente al termine degli anni 90, ma gli anni 80 per me sono proprio l'apoteosi, sotto ogni punto, fattore, settore, incredibile, quindi molto divertente se non l'avete mai visto, questo qui è consigliato per tutta la famiglia, tutti i film o meglio, ho scelto tutti i titoli che possono coinvolgere dai più piccoli ai più grandi a una coppia, a persone un po' più avanzate con l'età, a una famiglia, ho cercato di, per quanto possibile, comprendere un po' di consiglio, sempre un cinepanettone, è sì, definibile così, Christmas in Love, lui risale addirittura, come vi preannunciavo prima prima, ai primi anni del 2000, 2004, ok, pensate quanto è vecchiotto, quanto sono tornata indietro col tempo, credo che lo conoscete, ma tutti come titoli più o meno si conoscono, sono senza tempo, sono sempre attuali, divertenti, ti fanno passare quell'oretta e mezza, barra due ore, sì, erano i miei cinque titoli, assolutamente che volevo presentarvi, consigliarvi, lanciare un'idea, poi ripeto, ripeto ancora, sotto nei commenti scrivetemi tutti i vostri consigli su film, telefilm, fiction, serie tv, non lo so, sbizzarritevi come volete, con questo è veramente tutto, spero che il filmato è un po' diverso dal solito, non ho mai girato un qualcosa a tema del genere, mi auguro potrà esservi di compagnia, diciamo così, ma sì dai, di compagnia, di intrattenimento a modo suo, è diverso da tutte le altre tematiche che finora ho trattato da quando ho aperto il mio canale YouTube, vi mando un bacione immenso, un abbraccio fortissimo, ci vediamo domani con il Mululu Christmas 19, 20 e 30, sempre qui, sugli stessi schermi, ok, io mi azzitto perché oggi ho una parlantina tremenda e a domani, ciao!